Eccoci qui, buongiorno amici e followers, bentornati sul canale, bentornati alla consueta titolata settimanale video dove andiamo ad analizzare i titoli che voi mi chiedete nei commenti come sempre prima di iniziare vi chiedo un bel like di supporto al video di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e come sempre fatemi sapere qua sotto nei commenti altri titoli che volete vedere nelle prossime titolate detto ciò partiamo subito e andiamo a vedere quali sono i titoli di oggi naturalmente mi perdonerete se non li ho selezionati tutti, ne seleziono 8 come sempre se il titolo che mi avete chiesto non lo trovate in quelli di oggi continuate a scrivermelo che nel corso del tempo lo porterò detto ciò partiamo subito e partiamo col primo titolo di oggi ovvero Nike Nike come sapete è un titolo che mi piace molto e la mia strategia solitamente è sotto i 100 lo si compra in realtà inizio a comprarlo in area 100 l'avevo già comprato qualche tempo fa proprio a 100 ho un altro ordine in area 90 e un terzo ordine in area 80 la mia strategia su Nike è la seguente Nike vi ricordo che si occupa principalmente di abbigliamento quello è il business di Nike andando a vedere la sezione finanziaria come capitalizzazione ci siamo rapporto PE siamo 27 siamo anche giusti come rapporto PE non siamo rapporto PE folle forse 25 24 sarebbe meglio però per una mega azienda come Nike in realtà 27 ci può stare andando a vedere ora anno su anno come sta andando Nike il 2022 anche se siamo indietro quindi ormai perde un po' di significato era stato migliore leggermente sotto scusate il 2021 per quanto riguarda gli utili leggermente sotto andiamo a vedere trimestralmente come sta andando allora Q3 2023 rispetto a Q3 2022 siamo stati leggermente sotto Q2 2023 rispetto a Q2 2022 siamo leggermente sopra invece in questo caso se andiamo invece a prendere il Q1 siamo praticamente a pari in pratica sta facendo un anno come il 2022 il 2023 deve ancora finire devono uscire l'ultima trimestrale comunque l'ultima trimestrale è stata meglio delle aspettative lo stesso ha deluso gli investitori lo sta portando ora il titolo in area 90 in area 90 io farò un altro acquisto perché secondo me comunque Nike a questi prezzi è una buona occasione è una buona occasione finora ogni volta che l'ho comprato su di 100 ma sempre riuscito a pagare ha sempre dato delle soddisfazioni i miei target lungo termine secondo me Nike in area 150 ci può tornare 145 ecco se vogliamo trovare un livello più importante quindi la mia operazione rimane la seguente triple ingresso 190-80 target di lungo termine 145 target speculativo invece secondo me l'area dei 105 è già un primo target interessante se no ancora di più l'area dei 110 questa è la mia operatività su Nike è un'azienda che comunque nel complesso sta facendo bene è un settore value quindi stiamo parlando di abbigliamento quindi non dobbiamo aspettarci chissà quali crescite esponenziali o magari quali decrescite importanti su un titolo come questo che comunque nel complesso l'azienda secondo me non sta andando male e ha senso prenderla secondo me a questi prezzi voglio solo vedere l'ultima cosa i dipendenti qua nel 2022 mi dà comunque sono cresciuti rispetto agli anni precedenti vuol dire che è un'azienda che comunque nel complesso sta crescendo andiamo oltre Digital Turbine altro titolo che mi avete chiesto ho cercato di capire cosa fa questa azienda è tipo un software pubblicitario un'azienda di software pubblicitario sono anche andato sul sito per cercare di capirla al meglio allora da un punto di vista finanziario anzi parliamo da un punto di vista tecnico da un punto di vista tecnico mi sembra chiaro che stiamo andando malissimo mi sembra chiaro che stiamo andando malissimo detto ciò diamo un attimo a vedere da un punto di vista finanziario capitalizzazione non ci siamo mai non mi è dato sapere il rapporto PE in questo momento ho guardato sul sito dell'azienda per cercare di capire meglio cosa fa questa azienda cosa fa Digital Turbine in pratica fa questo lavoro qua guardate fa tipo queste pubblicità per le app o comunque ti permette di far crescere l'app all'interno dei vari store questo fa principalmente secondo me fa anche le animazioni tipo i video che capitano ogni tanto di pubblicità insomma fa più o meno questo lavoro qua almeno è quello che ho capito io andando a vedere da un punto di vista finanziario già qui comunque come capitalizzazione rimarrei ampiamente fuori se andiamo a vedere invece da un punto di vista finanziario come sta andando allora annualmente vabbè il 2022 è troppo lontano quindi non mi serve vado a vedere un po' il 2023 come sta andando molto molto male il Q2 2023 è stato un disastro il Q3 2023 è comunque stato negativo signori per me non c'è niente di buono in questa azienda cioè se sta scendendo ci sono dei motivi a parte che mi piacerebbe sapere come si scoprono certi titoli perché io certi titoli non saprei neanche come trovarli quindi mi raccomando attenzione anche a chi vi consiglia certi titoli perché questo titolo qua è difficile che un investitore retail o un appassionato di investimenti trovi un titolo del genere cioè qua bisogna che uno ci sia un po' impegnato a trovare un lavoro così e comunque andiamo malissimo per me è un titolo che vabbè adesso dire prima lo si vende meglio è mi sa che è un po' tardi perché se l'avete portato fino a 2 e l'avevate preso anche solo a 20 c'è poco da fare cioè non ha senso liquidarlo tanto vale sperare in un miracolo perché se avete preso alto ormai l'investimento non vi vale niente tanto vale tenervi le azioni e sperare in un mezzo miracolo questo è quello che mi sento di dire ma un miracolo che difficilmente vedremo prossimo titolo Amplifon questo si occupa di apparecchi acustici signori Amplifon sta andando abbastanza bene è un titolo italiano lo conosciamo quasi tutti il trend di lungo termine è rialzista abbiamo avuto una flessione qui nel 2022 e ora si sta un po' incastrando in questa zona diciamo che la zona di interesse da un punto di vista tecnico è la seguente guardate ecco qua questa è un po' la zona che sta colpendo in questo momento Amplifon questa resistenza in area 35 e questo supportino in area 25 più o meno è così che siamo messi al momento personalmente cosa farei su un titolo del genere innanzitutto vado a vedere se utili e fatturati mi dicono se sta andando bene o no questa è la prima cosa capitalizzazione 7,45 billion ci può stare il rapporto PE 50 altino il rapporto PE vuol dire che il mercato ci crede molto su questo titolo di conseguenza già da qui preferisco magari stare un po' lontano perché potrebbe essere rischioso 2023 è stato inferiore al 2022 quindi il ribasso che abbiamo visto ci può stare vediamo trimestralmente come sta andando l'ultimo trimestre si è un po' un po' deluso rispetto al 2022 secondo me in questo momento Amplifon non è un'occasione di acquisto anzi io rimarrei alla finestra a livello di probabilità mi sembra più plausibile che ci possa essere su scusate che cancello questo su questa resistenza in area 35 ci possa essere un ribasso un successivo ribasso e secondo me questa qui è una buona zona da acquisto l'area dei 25 quindi io rimarrei alla finestra magari mi metto un allarme in area 25 e non si sa mai e poi dopo quando mi prende l'allarme vado a ristudiarmi il titolo però prima dei 25 magari forse ambizioso magari forse un primo ingresso si potrebbe fare in area 30 ma ripeto forse siamo alti anche in area 30 ecco quindi mi aspetto un ritorno in area 36 una potenziale correzione importante e poi magari un dopo ingresso 30 25 scusate stop loss qua sotto in area 23 questa è la mia analisi su amplifon prossimo titolo tripadvisor tripadvisor è il famoso sito web di recensioni che da un punto di vista guardate del mercato il trend è ribassista oramai dal lontano 2014 quindi è un titolo che già per questo non mi fa impazzire c'è un trend ribassista di medio lungo termine voglian dire che proprio quando la compro io questa risale a livello di probabilità difficile andiamo a vedere da un punto di vista finanziario tripadvisor capitalizzazione bassa già mi piace poco rapporto ma non l'avevo mica visto 457 male 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 via da qui via da qui andiamo a vedere un attimo giusto giusto l'utile come sta andando dopo una debacle nel 2020 ci siamo un po' ripresi però anche il 2023 ha un po' deluso trimestralmente il 2023 non sta facendo malissimo comunque insomma gli ultimi trimestri non sono andati malissimo però signori follia questo io non assolutamente nessun tipo di long su questo titolo anzi si potrebbe quasi quasi pensare uno short in questa zona ecco questo magari è più plausibile uno short in area 27 che c'è una resistenza potrebbe essere un'operazione non la faccio ma a livello di probabilità è molto più probabile che mi torni in area 14 rispetto a che vada in area 50 quindi assolutamente short basta guardare un pie del genere rendimenti che comunque non sono crescenti nel corso del tempo guardate ve lo faccio rivedere ve lo faccio vedere il nuovo l'utile guardate rendimenti non esistono voglio vedere un attimo i flussi di cassa d'attività operative anche qui il 2023 ha fatto peggio del 2022 rapporto pie altissimo lasciar perdere questa roba qui si rischia di farsi molto molto male a prendersi long quindi evitare prossimo titolo CNH industrial macchine per agricoltura ed edilizia questo è il settore è il business di questa azienda da un punto di vista long term vediamo comunque una zona laterale cioè un titolo molto molto laterale di conseguenza non mi viene da dire che è un titolo che si può tenere per come posso dire un'operatività long long term già vedendo come si è comportato negli ultimi non lo sono dieci anni quindi sicuramente è un titolo confini speculativi e quindi dobbiamo capire se i bilanci o comunque l'andamento dell'azienda ci può aiutare a sfruttare magari qualche livello chiave per operazioni speculative quindi questa è la prima cosa che noto da un punto di vista tecnico panoramica capitalizzazione sopra i 10 bilion il rapporto P e 7 quindi vuol dire che ci siamo anche come rapporto P e annuale conto economico andiamo a vedere prima il conto economico andiamo a vedere 2023 fatto leggermente meglio del 2022 siamo sui massimi forse come utili sì utile netto attenzione sui massimi questo molto interessante fatturato in calo leggermente rispetto ai anni precedenti però l'utile è leggermente superiore quindi questo è molto interessante potremmo potremmo valutare un ingresso speculativo guardate un ritorno in questa zona molto interessante questa zona qui l'area degli 11 degli 11 questo è un livello molto interessante che è un ingresso long in area 11 secondo me potrebbe essere interessante altro ingresso long interessante è l'area dei 12 però ingresso long area 11 e poi dopo secondo ingresso long area 10 doppio ingresso così doppio allarme mettiamo uno in area 11 uno in area 10 se vengono presi i livelli target l'area dei 12 e dei 13 secondo me è una buona operazione qui sotto mettiamo uno stop loss perché comunque non vogliamo andare poi dopo a rischiare troppo quindi stop loss qua sotto target di questa operazione che è un'operazione che effettivamente ci può stare perché sta facendo abbastanza bene si sa mai un ritorno in area 11 magari lo può riportare magari in area 14 o in area anche 15 perché no e allora tanto vale provarla potrebbe essere un'operazione buona perché comunque doppio ingresso in questo modo qui naturalmente non tanto capitale potrebbe portare a buoni risultati prossimo titolo che andiamo a vedere andiamo a vedere sound 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 è intelligenza artificiale siamo nel componente intelligenza artificiale componente audio da quel che ho capito ha delle collaborazioni con Nvidia questo titolo in questo momento cosa possiamo notare allora c'è stato uno spike all'inizio probabilmente qua è quando il titolo ha iniziato a essere quotato mi viene da dire guardando il grafico proprio non lo so se sbaglio correggetemi ha avuto uno spike importante subito in area 18 tante aspettative poi è tornato giù e si è assestato qua vicino agli 1 ora sta ripartendo con Forza chissà che non sia un titolo con del potenziale che possa magari regalare qualcosa andiamo a vedere panoramica capitalizzazione un billion siamo bassi però magari un'azienda quotata da poco gliela passiamo un billion di capitalizzazione giusto per poterla studiare un pochino meglio vediamo fatturato utile netto utile lordo e siamo messi così guardate 2023 siamo stati bravi abbiamo perso meno soldi del 2022 però siamo stati un po' più scarsi a livello di utile netto rispetto a 2021 però il fatturato sta salendo questo è interessante questo è interessante prima cosa che noto è un fatturato che sale che sale scusate flusso di cassa di attività operative anche qui siamo in negativo ma stiamo anche qui un po' recuperando questa è una cosa molto interessante due valutazioni interessanti mi viene da dire solo la parola interessante volevo sapere qual è il rapporto PE ma non mi viene detto qui quindi questo è uno di quei titoli mi viene da valutare che è uno di quei titoli che sono dei titoli un po' scommessa perché non possiamo sapere o prevedere se questa azienda andrà bene o male nel futuro è impossibile da prevedere però magari se questa azienda dovesse fare dei rendimenti importanti essere un'azienda magari un'azienda nuova in un settore nuovo che può avere del potenziale mettere passate il termine qualche fish su questo titolo potrebbe valerne la pena io consiglio naturalmente ci vuole maggiore informazione sul titolo e cercare di capire se effettivamente ha del potenziale o meno prevedere gli utili non è possibile di dati ne abbiamo pochi perché comunque abbiamo tre anni di dati interessanti e quindi non possiamo andare a a scommettere troppo però magari dedicare un 1-2% del portafoglio ma anche un 3 no un 2% dai non esageremo un 2% del portafoglio e cercare magari un ingresso di questo tipo potrebbe essere signore una soluzione interessante perché potrebbe essere una soluzione che ci potrebbe dare delle opportunità cerchiamo di avere un prezzo medio di 4 si sa mai che questo titolo possa effettivamente crescere con forza nel corso del tempo quindi mi viene da dire titolo questa è l'operatività che faccio magari ingresso in area 5 ingresso in area 3 qualcosa poi dopo si può pensare un altro ingresso qui in area dei 2 ecco poi dopo ci si ferma un attimo e si e si valuta perché questo titolo potrebbe effettivamente esplodere verso l'alto e se dovesse esplodere averne un pochino in portafoglio fa sempre bene poi dopo naturalmente su un titolo del genere che si fa un triplo ingresso di questo tipo non si va a posizionare lo stop loss nel senso che si tiene e poi dopo poi va come va per questo dico di mettere un 1-2% del portafoglio prossimo titolo Brembo azienda italiana sistemi frenanti impianti frenanti si occupa Brembo andiamo a vedere indietro nel tempo come si muove struttura molto laterale è da dire tornate a toccare i massimi storici in area 15 poi dopo importante correzione è un titolo che se andiamo a vedere indietro vabbè si c'è stata una salita poi dopo ora è bloccato in questa zona laterale ecco qua no vedete questa super zona che dura da anni chiaramente anche questo rientra in titoli in ottica speculativa si cercano delle speculazioni su questo titolo non tanto degli ingressi long term andiamo a vedere da un punto di vista finanziario se vale la pena operare capitalizzazione 3 billion mi piace poco 4 billion mi piace poco rapporto PA12 paga dividendi questo può essere magari un titolo per i cassettisti che gli piacciono i dividendi così potrebbe essere un'opportunità vediamo allora vediamo utile netto vediamo isoliamo l'utile netto sta facendo bene a livello di utile netto sta facendo bene a livello di fatturato sta facendo bene potrebbe essere effettivamente una buona a livello bello 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 flusso di cassa di attività operative bello a questo punto vediamo anche il patrimonio netto in crescita signori buono bello bello brembo bello molto peccato per la capitalizzazione che rischia di alzare un po' il rischio ma bello come titolo e di conseguenza guardate un ingresso lungo qua secondo me signori per i cassettisti ancora di più io non faccio questo cioè non punto sui dividendi però per i cassettisti un ingresso in area 10 secondo me è un ottimo posizionamento magari ingresso in area 10 e poi tenere un altro po' di liquidità si sa mai in area 8 8 e 2 8 e 3 questo qui è veramente un bel titolo complimenti perché può regalare in ottica dato che ha un trend principalmente laterale o comunque laterale per molto tempo paghi dividendi magari si prende in area 10 o si rivende in area 13 si continua a fare un po' quest'operazione potrebbe essere un ottimo titolo perché no anche valutando un triplo ingresso di questo tipo poi dopo qui si mette uno stop loss perché se viene rotto questo minimo si va giù nel profondo però così buono 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 quindi mi piace e secondo me ripeto per chi punta sui dividendi nel proprio portafoglio è un super titolo questo ultimo titolo che andiamo a vedere oggi siamo su Brunello Cucinelli parliamo di moda moda cashmere principalmente mi sembra che faccia prodotti anche abbastanza costosi non stiamo parlando proprio di abbigliamento di massa possiamo dire così ha avuto una crescita importantissimo questo titolo ora ha toccato l'area dei 120 correzione benissimo vediamo questa correzione è perché il titolo è stato sopravvalutato o perché magari l'azienda no questa correzione potrebbe essere un'occasione perché il titolo è stato sopravvalutato e quindi ora bisogna scendere forte correggere bene oppure possiamo sfruttarlo come occasione andiamo a vedere cerchiamo di capire finanziare capitalizzazione 7 billion qua preferisco 10 bene rapporto ps61 allora già qui bisogna dire che l'azienda è stata forse troppo sopravvalutata soprattutto perché stiamo parlando signori di abbigliamento settore value non stiamo parlando di nuove tecnologie no lo dice ok la gente punta molto perché c'è la nuova tecnologia che se prende piede qua non so quanto possono prendere piede queste magliette capito in cashmere o la roba in cashmere insomma quindi rapporto pie alto su un titolo del genere forse preferisco stare lontano andiamo però a vedere magari sta facendo un capolavoro da un punto di vista utile e fatturato fatturato sì sta facendo bene utile siamo in crescita comunque sì effettivamente siamo in crescita anche a livello di utile nel 2023 c'è stata una crescita molto molto importante del titolo perché adesso magari vedete così ma guardate effettivamente passare da 80 a 114 vuol dire che il rendimento c'è stato quello che mi preoccupa di questa azienda è col flusso di cassa attività operative meno rispetto all'anno precedente già questo potrebbe forse dare un rallentamento forse sì allora troppo alto non lo compro assolutamente a questi livelli magari un ritorno in area 60 70 ecco 70 per essere più onesti ecco qua un ritorno in area 70 potrebbe essere interessante prima dei 70 assolutamente non sono interessato a comprare questo titolo perché potrebbe scendere con tanta tanta forza anche l'area dei 90 è interessante ma per me a 90 siamo ancora troppo alti e quindi evito evito perché un'azienda che opera in questo settore quindi settore dell'abbigliamento settore della moda settore del lusso chiamiamolo come vogliamo comunque è un settore che per quanto possa crescere a un certo punto trova i suoi limiti a differenza magari del tecnologico quindi detto questo per quanto riguarda la titolata di oggi è tutto io signori vi ringrazio per la visualizzazione vi ricordo come sempre che se questi contenuti vi piacciono lasciare un bel like di supporto al video io ringraziandovi nuovamente per la visualizzazione vi saluto e noi ci vediamo nei prossimi video sempre qui sul canale